Recentemente due miei colleghi filosofi hanno scritto un breve articolo sulla differenza tra il bugiardo e il cazzaro. Generalmente confondiamo queste due cose, diciamo una bugia, una stupidaggine o una cazzata ad esempio. Però a ben vedere è interessante questa distinzione. La distinzione non è tanto nel contenuto quanto nella relazione con la verità che il bugiardo e il cazzaro hanno. Il bugiardo ha una relazione con la verità in cui la identifica, in cui ci tiene perché vuole promuovere, vuole dire una falsità e vuole far credere a una falsità. Mentre invece il cazzaro non interessa la verità, vuole solamente andare avanti, vedere che effetto fa, giocare con le parole o con la falsità che produce. Ma la relazione con la verità non c'è, gli è indifferente.